Le condizioni del boss Matteo Messina Denaro, ancora ricoverato dopo l'intervento al San Salvatore, potrebbero indurre la difesa a chiedere la scarcerazione in quanto le sue condizioni di salute, anche con il tumore in stato avanzato, non sarebbero compatibili con il regime del carcere duro del 41 bis. Tutti i giornali e le tv ne parlano e anche al mercato quotidiano dell'Aquila il dibattito è serrato. In televisione l'ho sentito. Secondo lei una persona che sta male deve stare al 41 bis o dovrebbe essere scarcerato? È una domanda particolare. Noi crediamo fermamente che fra poco tutti coloro che sono malati dovranno essere liberati dalle malattie e anche da questo sistema malato. Sta male, è stato operato, gli avvocati vorrebbero chiedere la scarcerazione. Lei cosa pensa? Che una persona malata debba rimanere in carcere oppure no? Lui sì, senz'altro. Penso proprio che debba rimanere in carcere. Lei è molto rigido per tutta la storia che ha? Io penso che uno deve essere anche, come dire, sì, secondo me, uno che ha commesso quello che ha fatto lui, penso proprio di sì, insomma. Cioè, non ho alcun dubbio. Senta, che pensa lei che deve essere scarcerato per le cure? Ma per carità, per carità, ma che stiamo scherzando? Non c'è pietà da parte vostra, insomma, per la sua storia? No, no, assolutamente. Per quello che ha fatto non merita pietà. Neanche una persona che sta male? Sta male, è curato, mi pare anche abbastanza bene, curato e quindi basta quello, basta, anche troppo. Perché tanta gente non ha neanche possibilità di accedere a quelle cure. Quindi lasciamo perdere. Poi ai tempi dell'asla aquilana lasciamoli perdere. Grazie. 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 Grazie.